C'è un primo fermo dopo la brutale aggressione avvenuta ieri mattina nella zona di Colle Sapone, all'Aquila, ai danni di un 21enne accoltellato alle spalle vicino alla fermata dell'autobus. Si tratta di un 16enne di nazionalità marocchina, sospettato di aver inferto una serie difendenti al culmine di un elite tra ragazzi. Il sospetto è che il fatto di sangue sia scaturito da un regolamento di conti legato alla gestione del piccolo spaccio di droga da parte di baby gang rivali. L'allarme è scattato intorno alle 13 di ieri dopo che il 21enne, insanguinato, ha provato a rifugiarsi in un bar per sfuggire ai suoi aggressori. Sul posto un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale dove il 21enne è arrivato in codice rosso a causa delle ferite riportate che gli hanno fatto perdere molto sangue ma che miracolosamente non hanno raggiunto gli organi vitali. Nel frattempo alcuni passanti hanno disarmato il marocchino che poi era riuscito a fuggire. Dopo qualche ora il nord africano è stato rintracciato da polizia e carabinieri che erano già sulle sue tracce. Inizialmente con lui pareva essere coinvolto anche un italiano successivamente scagionato dalle immagini della videosorveglianza presenti nella zona. L'attenzione degli investigatori si è quindi concentrata sul 16enne marocchino nei confronti del quale è stato emesso il fermo di polizia giudiziaria. L'accusa iniziale è quella di tentato omicidio ma potrebbe essere rimodulata in base all'evoluzione delle condizioni della vittima. Il 21enne, un ragazzo di origini pugliesi, è fuori pericolo ed è stato dimesso ieri pomeriggio dal San Salvatore. Intanto le indagini proseguono per appurare ulteriori responsabilità.